1. Tu sei malata? 2. Tu sei annoiato? 3. Tu sei cinese? 4. Lui è arrabbiato? 5. Lei è sveglia? 6. Lei è italiano? 7. Voi siete viaggiatrici? 8. Loro sono studenti? 9. Loro sono sani? 10. Loro sono annoiate? 10. Loro sono annoiate? 10. Loro sono sani? 10. Loro sono sani? 10. Loro sono sani?